Buonasera e ben ritrovati con Sportivamente, concessionaria Ford di Arona, una puntata dedicata al twirling, alla società Santa Cristina di Borgomanero, una società storica del territorio nata nel lontano 1982. Sono beato fra le donne, guardate che bella parterre al mio fianco e c'è la responsabile tecnica Sabina Valsesia. Buonasera. E poi ci sono le ragazze Alessia Barcellini, Camilla Fortis, Alessia Fornara, Federica Bresolin, le più piccole, le altre più grandi, alcune anche con gli abiti di gara. È veramente una puntata meravigliosa, con tanti colori e con un'ambizione, quella di far conoscere il twirling a tante persone. Ecco, Sabina, dove nasce la vostra società e quante socie ha in questo momento? Sì, allora, la nostra società è nata nel 1982 a Santa Cristina di Borgomanero, appunto, che è una piccola frazione di 2.000-2.500 abitanti. e così è nata per dare la possibilità alle ragazzine del paese, alle atlete, alle giovani piccoline o un pochino più grandi, di poter praticare un'attività sportiva. Io avevo già fatto parte di una compagine a Borgomanero, questo sport mi aveva appassionato tantissimo e quindi, vuoi per incoscienza, vuoi per le follie di gioventù, diciamo così, all'età di 18 anni ho pensato di formare questa piccola società. All'inizio eravamo poco più che una ventina, neanche forse, e invece in questo momento le atlete contano un numero di 100-120 atlete, insomma. Un numero straordinario, tra l'altro avete ottenuto risultati dal 1982 ad oggi a tutti i livelli, regionale, nazionale ed internazionale. Sì, siamo partiti proprio un pochino per gioco, per fare qualcosa di bello insieme, per aggregare le ragazzine, per fare qualcosa di bello insieme, e piano piano, con l'impegno, la passione che ha caratterizzato sempre i nostri risultati, diciamo così, ci siamo trovate quasi senza renderci conto a vincere anche gare internazionali, insomma di un certo prestigio, di un certo livello. Ecco, poi ne parleremo anche dell'inizio della stagione e degli obiettivi per il futuro. Adesso parliamo invece di che cos'è veramente il twirling, in modo tale che tutti lo possano scoprire. Ne parliamo insieme a Camilla, che è quasi laureata, e dunque adesso ci spiega con una lexio magistralis che cos'è il twirling. Sì, buonasera a tutti, il twirling è una disciplina sportiva che unisce i movimenti ginnici della ginnastica, sia artistica sia ritmica, all'utilizzo di un attrezzo, che è il bastone, noi lo chiamiamo proprio così bastone, e quindi si differenzia dalla ginnastica ritmica perché utilizziamo un solo attrezzo e non nastri, palle, che invece riguardano un'altra disciplina. In più c'è un aspetto artistico di danza, gli nostri esercizi sono fatti sulla musica, uniscono la tecnica del bastone alla danza. Perfetta, ottimo, volevi aggiungere qualcosa? No, spero di essere stata chiara. Chiarissima, volevo chiedere come è nata la tua passione per il twirling. Sì, la mia passione è nata quando ero all'elementari, una ragazza che praticava twirling a Santa Tristina, Alice Mora, che è stata una grande campionessa, poi era già una grande campionessa, è venuta a proporre il twirling come disciplina nella mia scuola, a Borgomaniero, e da lì tutta la classe quasi si è spostata verso il twirling, abbiamo deciso di provare questa nuova disciplina che non conoscevamo, io non conoscevo, e da lì mi sono innamorata, non ho più smesso, ormai sono 14 anni che pratico questo sport, quindi sono ancora innamorata. Benissimo, innamorata, ecco, abbiamo Alessia, siamo la concessionaria Ford, non a caso perché ha preso la patente da una settimana e dunque dovevamo festeggiare in qualche modo. Alessia, invece, da parte tua, come è nata la passione per il twirling? Buonasera a tutti, allora, il mio sport è iniziato il primo dicembre del 2003, me lo ricordo benissimo quel giorno, dopo aver visto, non so, decine di esibizioni nel mio paesello, che è Santa Cristina, finalmente il primo dicembre ho trovato il coraggio, ho convinto i genitori ad andare in palestra e da allora non sono più uscita. E niente, sono 16 anni che vado avanti e spero di riuscire ad andare avanti ancora. Hai tanti riconoscimenti al collo, ce li spieghi magari un pochino? Certo, questo è un riconoscimento a cui io tengo molto, è una medaglia d'oro con cui abbiamo vinto il campionato europeo tenutosi nel luglio 2017 a Buster Sizio, l'abbiamo vinto insieme con la specialità gruppo coreografico, quindi è proprio vero, come diceva Sabina, la nostra allenatrice, che insieme con la passione si può raggiungere tutto. È stato un obiettivo tanto sognato e tanto sudato e quindi portarlo al collo è un onore. Coccarda Tricolore, invece? Coccarda Tricolore, invece, è la medaglia d'argento al valore atletico, dataci dal CONI qualche mese fa come riconoscimento della vincita del campionato europeo. Molto bene, avete capito che siamo veramente di fronte all'eccellenza assoluta della disciplina. Andiamo dall'altra Alessia, anche per te, te sei un pochino più giovane rispetto a loro. E da dove nasce e da quanto tempo pratichi Twirling? Ma la mia passione nasce un po' per caso perché a Borgomaniero c'era stata questa esibizione e ero in giro con la mia famiglia, quindi ho visto questa esibizione e da lì ho iniziato ad andare agli allenamenti, a praticare questo sport e non ho più smesso. Ancora oggi spero di continuare ancora. Alessia, quanti giorni alla settimana ti alleni? Per quante ore? Di solito cinque giorni e per due, tre ore al giorno. Molto bene, al tuo fianco c'è invece Federica. Sì. Pardon, Federica, non mi veniva il nome. Federica, hai anche degli attestati? Sì, questi sono gli attestati che vanno accompagnati alla medaglia che ho al collo che è appunto quella dell'europeo 2017, come ha già detto Alessa, che abbiamo vinto proprio in casa a Bussar Sizio. Invece dietro c'è un altro attestato che abbiamo vinto sempre in gruppo, sempre nel 2017 in Croazia, all'International Cup. Niente, questa è sempre la medaglia tricolore del riconoscimento del CONI. Quante emozioni ti sa regalare questo sport? E quali emozioni ti sa regalare? Tante, perché c'è l'emozione più grande che ho provato, penso, c'è da sempre. È proprio quella prima di entrare in gara all'europeo, che ancora adesso mi viene la pelle d'oca perché è stata un'emozione grandissima. Avevo tanta paura, ma anche tanta energia che poi ho portato in campo. Molto bene, quindi continueremo con questa carrellata di emozioni e di risultati da parte del Twirling Santa Cristina. Tra un attimo, dalla concessionaria Ford, ci interrompiamo un secondo, andiamo a conoscere un altro giovane prodigio, vale a dire Marco Farina, a quattro occhi col Trent, Sport Invernali, Bob nel caso di Farina. Andiamo a conoscere questo altro bel personaggio del nostro territorio. A quattro occhi col Trent, eccoci sotto i portici perché la giornata è leggermente piovosa, con il più giovane bobbista d'Italia, Marco Farina. Ciao Marco, già tutto bardato in divisa da nazionale. Senti, raccontami un pochino, come è nata la tua passione per il Bob, che non è uno sport di nicchia, ma che purtroppo in tanti ritengono così? Questo sport è stato trasmesso dal mio padre, appunto, che negli anni Ottanta iniziò questa disciplina, poi successivamente passò allo Scheleton, portando altri atleti nella zona alle Olimpiadi, come la Costanta Zanoletti, Maurizio Ioli, e adesso ci sono io negli ultimi anni. Adesso ci sei tu che stai già facendo delle cose decisamente interessanti, perché la stagione, ok, adesso è finita, non sembrerebbe visto il tempo, però la stagione è finita. Cos'hai combinato di bello in quest'annata? Quest'anno abbiamo fatto delle gare in previsione delle prossime Olimpiadi giovanili che si terranno a Lusanna l'anno prossimo, nel gennaio del 2020. Abbiamo fatto delle gare in Svizzera, a St. Moritz, e una gara a Königse in Germania. Senti, raccontaci un pochino di te, perché oltre chiaramente a essere un atleta, sei un ragazzo di 16 anni, la scuola, le passioni, dici un po', cosa piace oltre al Bob, cosa piace a Marco? Beh, io faccio il liceo sportivo a Marconi, a Domodossola. Nella vita ho sempre fatto tanti sport, passando dal pugilato all'atletica, ho passato tante discipline, dal calcio alla pallavolo, e ultimamente, negli ultimi due anni circa, mi sono dedicato a questo sport a tempo pieno. Il tuo allenatore è papà, Paolo, che come hai detto è stato un grande di questa disciplina, diciamo che magari ti ha un pochino convinto a proseguire sulle sue orme, o meglio sulle sue scie, diciamo così. Sì, è stato lui che mi portava anche da piccolo a vedere le piste, ma anche già quando ero in Teneratà, tre anni, quattro anni, andavo a vedere le piste, e volevo anche già scendere, volevo aspettare una decina d'anni per farlo, però lo sono riuscito. Diceva prima, fuori onda a papà, che quando lui faceva il direttore di gara a Cesana in occasione dell'Olimpia di Torino, tu che eri un bimbino piccolo piccolo, però gironzolavi già intorno agli atleti, facevi un po' il direttore di manifestazione. Sì, io vedevo proprio queste slitte gigantesche, che volavano, facevano un voato assurdo, era proprio emozionante all'epoca per me, adesso è quasi normalità. Senti, ma in quel periodo lì, quando tu eri piccolino, ti era mai venuto in mente di dire, un giorno io vado su quella pista lì a provare a vincere la medaglia d'oro, piuttosto che il campionato italiano, piuttosto che il campionato mondiale? Ma da piccolo pensavo a provarlo, appunto, poi questo agonismo è venuto fuori negli ultimi anni. Senti, qual è la tua dote migliore da bobbista? Io mi ricordo, non so, magari il tempo di spinta, piuttosto che la guida, qual è la tua dote più importante? Magari anche se il papà ti suggerisce. Beh, principalmente la guida è stata, si è dimostrato anche secondo allenatori e anche secondo filmati, così, che sono stato uno dei migliori piloti della mia categoria. Infatti si potevano anche vedere dei buoni tempi, nonostante magari la spinta un po' difettosa. Hai trovato qualcosa su cui lavorare? La spinta, vuoi migliorarla? Sì, atleticamente devo migliorare ancora, specialmente nella prima fase da spinta, perché la pista di St. Moritz si basa principalmente sulla spinta e quindi è fondamentale, gioco un ruolo chiave. Infatti ha anche influenzato moltissimo le gare che ho fatto quest'anno. Tu sei giovanissimo, però si può già parlare di qualche obiettivo che possa arrivare in futuro, perché mi dai l'idea di uno che questa carriera la vuole continuare per qualche anno. Il tuo obiettivo principale, da qui a qualche anno, quale può essere? È quello, prima di tutto, di entrare in un gruppo sportivo. Militare? Sì, esatto. E anche poi dedicarmi a tempo pieno a questo sport. Partecipare a Coppa Europa, in futuro anche a Coppa del Mondo. E proprio dedicarmi all'agonismo. E poi magari tra qualche anno potrebbero esserci le Olimpiadi qui in zona. Tu cosa ne pensi in zona? In Italia, diciamo. Le Olimpiadi? Le Olimpiadi. Parlano di Milano e Cortina tra qualche anno, magari. Ma sì, anche quelli sono uno dei miei principali obiettivi, le Olimpiadi di Tuenon 2026, anche se magari vorrei anche partecipare alle Olimpiadi di Pechino, se possibile. Se riesco magari a qualificarmi, anche per provare. Poi nelle Olimpiadi di Cortina a Milano 2026, se diventa realtà, sarà proprio un sogno fattibile parteciparvi. Facciamo così, ce ne facciamo segnare, troviamo il modo. E poi andiamo tutti a tifare Marco Farina. Grazie Marco, in bocca al lupo. Grazie. Mi raccomando lo sport, mi raccomando la scuola. Diventa un manager sportivo quando avrai terminato la carriera. E in bocca al lupo ancora. Grazie mille. A quattro occhi col Trenta, alla prossima. Questo è davvero un gran bel personaggio. Ciao. Seconda parte di Sportivamente, grazie a Gianluca Trentini, concessionaria Ford di Arona, ricco parra terra con il twirling protagonista, Santa Cristina. e abbiamo il responsabile tecnico che ci sta facendo conoscere sempre di più ogni ambito. Un ambito molto importante per il vostro sodalizio è quello delle ragazzine più giovani. Sì, certo. Per noi la parte promozionale è importantissima. Noi diamo tanto spazio a quello che sono gli inizi del twirling. Abbiamo qui delle piccole rappresentanti, perché nel nostro sport partiamo da tre anni, tre anni e mezzo. La più grande che in questo momento non ce n'è, ne ha trentadue. Però per noi il piccolo vivaio è la cosa più importante. Qui sono presenti due rappresentanti che domenica hanno fatto una piccola competizione promozionale, hanno fatto il duo e hanno portato a casa la loro medaglia d'oro che portano orgogliosamente al collo. Che sono Giulia. Chi è Giulia? Boh? Ci alzi la banina? Ecco lei è Giulia e Federica. Eccole qua. Poi abbiamo Gaia, che è una rappresentante di quelle un pochettino più grandi, non grandissima ma già, diciamo delle elementari, della scuola elementare. E poi passiamo alla prima media con Silvia, che quest'anno sta gareggiando nella Serie C, anche Gaia naturalmente, e stanno avendo anche loro, sia con la squadra, e Silvia anche con l'individuale, dei buonissimi risultati. Quindi il 4 e il 5 maggio ci sarà la terza prova regionale, che decreterà l'ingresso in base alle classifiche al campionato italiano. E speriamo che vada tutto bene. Sono ragazzine che veramente si impegnano, hanno tantissima voglia di fare, sono entusiaste per tutto. Federica ha fatto un disegno bellissimo, ho scritto che era felicissima, della sua medaglia d'oro. e so che ci mettono veramente il loro impegno. E questa è la cosa principale. E' bellissimo vedere l'entusiasmo. Esatto, la passione e l'entusiasmo sono quelle che veramente danno il risultato migliore. Certo. Per quanto riguarda le più grandicelle, com'è iniziata la stagione? La stagione è iniziata benino, ma non eccezionale. Quindi bacchettate subito. No, in realtà io devo dire una cosa, per me è una grandissima soddisfazione vedere queste ragazze, che avete visto che sono comunque, Alessia e Camilla in particolare, sono comunque delle universitarie. E quindi è una cosa bellissima vedere che queste ragazze, dopo questi anni, riescono ancora a conciliare veramente lo sport con la scuola a questi livelli. E credo che di sacrifici ne facciano. Quindi la loro passione è veramente tanta. Non è iniziata benissimo la stagione, cioè ci siamo resi conto che potevamo fare di meglio, infatti domenica scorsa abbiamo fatto la seconda prova del campionato italiano di Serie A e molte cose sono migliorate. Adesso con la terza prova ne avremo delle belle, insomma. Ecco un po' come l'esame della maturità. Tema, seconda prova, adesso la terza e vedremo. Esatto, perfetto. Poi chiaramente con il gruppo coreografico, che diciamo è la nostra un po' specialità, quella che ci prende di più, diciamo ci dà più, siamo qualificati per il campionato europeo, che sarà in Francia, e stiamo lavorando proprio per rendere il numero, l'esercizio il più bello possibile, il più competitivo possibile, perché i nostri avversari forti europei sono proprio francesi, quindi andando a fare l'europeo in Francia, dobbiamo essere molto carichi. E certo, poi dai cugini non si può fallire. Esatto. Federica, volevo chiedere a te quali obiettivi hai nel tuo futuro, nel twirling, e poi anche magari più in generale nella vita. Cioè, da grande ti vedi ancora con il body e con la danza protagoniste? Beh, sicuramente il twirling è un ambito che ormai fa parte della mia vita, quindi anche decidere un domani di smettere, cioè togliermi completamente da questo ambito, è una cosa che un po' mi peserebbe. Quindi sì, voglio continuare a condividere le emozioni con la mia società, con le mie compagne. Poi se da atleta o da futura allenatrice non si sa, però sì, voglio continuare. Alessia, invece, volevo chiedere a te, contenta di come è iniziata la stagione di questi primi mesi? Sì, come ha detto Sabina, si poteva fare meglio, però comunque adesso stiamo lavorando per migliorare sempre di più, anche in vista dell'europeo di luglio, quindi speriamo di ottenere dei buoni risultati e di migliorare. Camilla, invece, passando un pochino alla parte più tecnica, volevo chiedere come nascono le coreografie e anche come vengono affigliate le musica alle coreografie? Allora, noi a Santa Cristina abbiamo la fortuna di avere dei tecnici molto preparati che ovviamente si aggiornano ogni anno con i corsi, salgono di livello e seguono proprio corsi di aggiornamento. Le coreografie partono da una decisione del tecnico che è in grado di valutare le abilità e le caratteristiche delle atlete, che sia in un esercizio individuale o in un esercizio di squadra. E poi noi, quando un atleta arriva in Serie A, è anche affiancata dal coreografo che ormai ci segue da moltissimi anni e sono orgogliosa di menzionare, che è Paolo Tavorelli, che ci segue con grande impegno e ci aiuta a preparare le coreografie che anche, mi sento di dire, a livello italiano e internazionale sono sempre ben riconosciute. Insomma, il suo lavoro è riconosciuto. C'è un'emozione particolare che leghi al Twirling? Una gara particolare? Un qualcosa? Un'emozione particolare che io sento quando penso al Twirling è come mi ha fatto crescere come persona. Perché io ero molto timida e il Twirling, lo sport di squadra, mi ha aiutato ad aprirmi molto di più, mi ha aiutato ad accettare anche alcune mie debolezze e ad affrontare la gara in maniera non timorosa, ma più propositiva. Quindi sicuramente quando penso al Twirling penso al percorso di crescita che mi ha fatto fare anche nella vita. Alessa, invece per te, quali obiettivi in questa stagione? In questa stagione assolutamente l'europeo che si terrà in Francia arrivare preparate emozionando noi stesse ed emozionando il pubblico e poi tutto ciò che ne viene di conseguenza. Quindi diciamo che un primo posto sarebbe ben accettato soprattutto in terra francese, ecco. Però emozionarmi ed emozionare soprattutto. Abbiamo parlato prima dello studio, tu cosa studi all'università e anche come riesci a conciliare, perché ha accennato Sabina e spiega anche ai ragazzi a casa o comunque ai nostri telespettatori come riesci a portare avanti parallelamente le due cose. Allora, io studio medicina e sono al terzo anno e se ce la faccio io ce la possono fare tutti. No, non ci sono scuse, scherzi a parte lo sport aiuta un sacco a crescere e ad organizzarsi sia nella vita che nello studio. Quindi sapere di avere un allenamento la sera permette innanzitutto di ottimizzare il tempo, di fare meglio le cose e poi anche uno sfogo sia a livello fisico che dopo essere stata seduta 8 ore tra i banchi aiuta ma sia uno sfogo soprattutto mentale. Quindi io dico sempre che non credo a chi dice che non può fare sport perché studia, perché appunto se ce la faccio io ce la possono fare tutti. Non mi ritengo un genio, quindi tutto è possibile se ci si mette passione e impegno. Fantastica veramente perché hai dato una disamina perfetta. Dovrebbero prendere questo frame e farlo vedere in giro per le scuole. Veramente brava, il messaggio è stato incisivo, è molto bello. Volevo chiedere a Sabina invece con questo passaggio di microfono da un'ala all'altra della concessionaria Ford una cosa nel futuro di Santa Cristina, quindi di questo sodalizio che cosa ti aspetti? Beh, la cosa io come avrete notato sono molto semplice nel mio modo di vivere lo sport. La cosa che mi auguro per sempre veramente fino a che adesso stiamo parlando di 37 anni di questa società fatemi conti se li sto facendo giusti che ci sia sempre l'entusiasmo, la voglia di lavorare insieme perché per me è importantissimo proprio la squadra è quella fondamentale e sempre crescere, migliorare non bisogna mai ritenersi arrivati c'è sempre da imparare, c'è sempre da migliorare che le ragazzine che cominciano lo facciano con piacere che siano contente e basta, questa cosa semplice. A livello nazionale il Twirling come è distribuito e ci sono le società principali in che settore dell'Italia? Diciamo che il Piemonte e la Lombardia sono quelli diciamo più interessati sta prendendo piede bene anche la Sicilia e poi ci sono regioni un po' sparse il Veneto, le Marche è nato prevalentemente in Piemonte e in Lombardia sono le zone diciamo un pochino più ricche di atleti però da una dozzina d'anni voi siete la società migliore in assoluto in Italia Sì, abbiamo avuto questo privilegio di essere la società migliore per 12 anni questo diciamo titolo viene dal risultato che gli atleti hanno un po' in tutte le divisioni in tutte le categorie quindi dalla Serie A al promozionale appunto come dicevamo prima Ultima domanda da neofito completo i maschietti sono accetti oppure no? I maschietti sono accetti nelle altre società bene o male qualche maschietto c'è a Santa Cristina non lo so se vengono vengono per guardare le ragazze però ancora non siamo riusciti ad avere questa soddisfazione speriamo che un giorno davvero qualche ragazzo anche perché esiste la specialità duo si fa spesso il duo con due ragazze però diciamo che il duo maschio e femmina ha sicuramente un altro aspetto un'altra resa diciamo Io verrò sicuramente semplicemente a guardare non a praticare e con questo vi saluto grazie Sabina grazie a tutte le ragazze gentilissime e soprattutto preparatissime bravissime grazie anche a chi non ha parlato ma è stato qui con anche gli abiti e le medaglie grazie alle bambine grazie a tutti dalla concessionaria Ford di Arona è tutto per questa sera con il Twirling Santa Cristina un saluto e un ringraziamento buona Pasqua e a giovedì prossimo con Sportivamente grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti